Konnichiwa minasan, benvenuti qui al mio canale, sono come sempre Giappogamer e come potrebbe vedere siamo qui su Drive Club per Playstation 4 e siamo nella fattispecie nell'espansione dello stesso Drive Club che si chiama Horsepower, oggi ci andiamo a fare un campionato dal titolo Pacific Master classe Super, Stati Uniti contro Cina e Giappone, bene campionato a due turni, prende dobbiamo utilizzare le macchine Super però ovviamente, essendo io un appassionato di macchine giapponesi, ovviamente mi vado a prendere la Nissan GTR Nismo eccola qua in tutto il suo splendore, mamma mia guardate che bestione di macchina, incredibile, veramente incredibile belli pure gli interni, mi piacciono da morire, guardate che muso e guardate in fondo, avete appena visto la visione del Monte Fuji allora, quindi campionato basato su due turni, sei stelline totali, vediamo un po' come va gara è notturna, ecco, bene ti pareva eccoci qua, pronti partenza via ah, gara a progressione, bene, quindi non ci sono giri vediamo un po' come va, andiamo a caccia di stelle e togli tibaca, su oh, così va bene così, vai così abbiamo un confronto in curva da vincere, vediamo un po' come va qua, gara sempre, quasi sempre notturna, porca miseria, quando devo fare delle gare su dry club una cosa veramente che ha dell'incredibile oppela, scusi eh mi sono un attimo appoggiato su di lei vai così, vai così prendiamo il largo tutto a buio, non ci vede una mazza però mamma mia che skill vai così vai così vai così parca miseria mi sono andati a ogni strati mamma mia che skill oppela, rieccomi e si tolga su oh, e scollati 62% 63% 64% vai così vai così eh vabbè l'abbiamo persa non fa niente e non ci provare va che si è fatto giorno la macchina è praticamente spaccata ma cavolo sul rettilineo e vabbè vediamo un po' come è andata a finire terzi va bene comunque abbiamo preso una stellina abbiamo concluso fra i migliori tre della gara il batti confronto in curva di 4.800 ahimè non è andata a buon fine continuiamo andiamo al secondo turno per il momento siamo riusciti a prendere una stellina vediamo di concludere anche qua fra i migliori tre di fare un tempo pari o inferiore ai 3 minuti e 42 secondi vediamo un po' vediamo un po' eh piove e calla ok pronti via anche questa gara basata sul progresso e non sui giri in circuito ma va bene dai siamo pronti a tutto porca misera che curva eh si e calai tutti eh beh quando ve pare oppela scusi scusate mi sono un attimo intromesso vai così vai così vai che abbiamo recuperati vai così ottimo ottimo dai che siamo sesti dai che siamo sesti 36% di progresso 37 adesso vai che abbiamo recuperato va toglietemi su oppela eh si penalità ancora con queste penalità da che siamo terzi da che siamo terzi e non mi superare tu eh si tacci ostri cavolo sta pure aumentando la pioggia qua vai così vai così pioggia non te temo 89% 90 porca miseria la pioggia eh si e togli di vaca terzi va bene con un tempo inclemente così era il mas se potessi fare forse potrei potevo arrivare secondo ma ci sta un po' pensando qua il computer eh ce la fai ok eccoci qua allora terzi con la nostra Nissan GTR Nismo 3 minuti e 43 secondi terzi in totale nel campionato abbiamo preso 20 punti li abbiamo chiuso con 6 minuti e 52 bene bene ok abbiamo preso una stellina con cui fremini 3 della gara e poi altre due stelline con cui fremini 3 del campionato e conclui il campionato con almeno 20 punti bene così ci regala 64.374 stelline bene così abbiamo raggiunto il livello 9 per quanto riguarda la fama per la Nissan GTR Nismo e ancora siamo al 35esimo del livello pilota e siamo quasi per arrivare al 36esimo bene così continuiamo yatta yatta bene eccoci qua tornati nella hub per quanto riguarda questa espansione di drag club chiamata horse power bene questo episodio bonus termina qui mi raccomando se vi è piaciuto lasciate un bel like commentate e condividete nei vostri social network dal vostro giappo gamer è tutto sayonara e al prossimo episodio grazie a tutti